Laddove non riescono nemmeno le larghe intese riesce il progetto di Megalo 2. La politica infatti in coro unanime dice no al progetto del secondo centro commerciale che dovrebbe chiamarsi Mirò a poche decine di metri dall'attuale insediamento commerciale di Chietiscalo. La partita Megalo 2 sembrava chiusa il progetto destinato ad andare su un binario morto ma il lavoro fatto dall'asile, la ditta Bergamasca che propone il progetto sugli argini del fiume Pescara che a poche centinaia di metri ha fatto sì che il genio civile che quei lavori li aveva prescritti e che aveva bloccato l'iter ad oggi abbia dato il suo via libera. D'altro canto però su Mirò pende un ricorso al tar dell'asile che sarà discusso il prossimo mese contro il parere negativo del comitato via regionale quindi tutto può ancora accadere sia a livello giudiziario che burocratico anche se i vari schieramenti politici dicono no all'unanimità a partire dal presidente della regione D'Alfonso che ha annunciato il suo personale intervento alla prossima riunione del via per chiedere rigore nella lettura degli elementi in campo a partire dalle criticità che il progetto solleva in ordine alla pericolosità della zona in cui dovrebbe essere costruito in piena cassa di espansione delle fiume. I 5 Stelle con Sara Marcozzi parlano di inaccettabile lassismo e superficialità con cui il presidente della regione D'Alfonso e il sindaco di Chieti di Primio stanno gestendo il procedimento autorizzativo. Il consigliere regionale Pentastellato chiede l'immediato blocco delle volture delle concessioni edilizie dalla Sirec alla Sile. Da sempre contrari anche le associazioni ambientaliste che più volte hanno richiamato la pericolosità anche del Megalo 1. Tra i contrari della prima ora anche Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo di Forza Italia. Lì ci sono dei permessi che sono scaduti. La proprietà se vuol fare legittimamente vuol realizzare quell'opera deve iniziare l'iter quindi di fare il passaggio anche al via e sul via chiaramente come abbiamo fatto le osservazioni legittime nel primo caso le faremo sul secondo caso. Quella è un'opera che oggi in quel territorio non si può realizzare. Le condizioni socio-economiche di questo territorio, di quest'area metropolitana sono completamente cambiate rispetto al passato e in più ci sono altri problemi. Quindi ora cosa succederà? Aspettiamo intanto il TAR e poi vediamo.